Le stelle di Azus Le stelle di Azus Le stelle di Azus Scorpione, Luna un po' difficile, magari farete qualche capriccio in più oggi, ma le persone che avete intorno e che vi vogliono bene sono pronte ad assecondarvi. Sagittario, la luna in acquario ottima per trascorrere una serata spensierata con gli amici. Sarete socievoli e disponibili e non mancheranno momenti di allegria. Capricorno, tenete duro ancora un po', poi sarete finalmente liberi da molte delle pressioni che vi stanno mettendo a dura prova. Già oggi sembra esserci una bella schiarita in amore. Acquario, Saturno, nel vostro segno vi chiede di essere molto più saggi ed uculati nel trattare affari finanziari e sentimentali. Evitate di esagerare, limitatevi alla semplicità. Pesci, Marte ancora in posizione molto difficile consiglia prudenza nelle questioni di cuore. Siete troppo irruenti, potreste prendere una decisione affrettata. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano su Facebook alla pagina Oroscopo di Azus.